Questa mattina quando mi hanno mostrato il biglietto, onestamente mi sono venuti i brividi. Si tratta di un'attestazione, di una condoglianza relativa a un cane che abbiamo amato tutti quanti e che mi ha colpito profondamente. Per questo ci tengo anche a ringraziare coloro che hanno messo questo biglietto. Siamo tutti dalla stessa parte, siamo tutti per la vita.